Svetlana e Olga in fuga dall'Ucraina si sono alternate al volante della loro auto per dividersi anche la stanchezza di un'odissea durata tre giorni di paura e tensione. Migliaia di chilometri di disperazione ma anche di speranza per mettere in salvo anche i due bambini che vedranno la luce nel prossimo mese di maggio. Sì, perché Svetlana e Olga sono incinte, i loro uomini, Nicola e Stanislao, sono in trincea. Purtroppo quasi sicuramente non riusciranno a essere presenti il giorno della nascita dei loro piccoli. Ma ora sanno che le loro donne, il frutto del loro amore, sono sicuro. Svetlana e Olga sono state infatti accolte con calore e infinita umanità da una coppia di avellinesi. Antonio Maffeo, insegnante in pensione, la moglie Maria Teresa Celano, ingegnere. I loro figli sono altrove per lavoro e altri impegni. I coniugi che abitano al centro di Avellino, tramite la madre di Svetlana, Oksana, non ci hanno pensato su più di una volta e hanno aperto le porte della loro casa. Un gesto concreto di solidarietà e fratellanza in un momento dove è anche difficile assicurare strutture locali per accogliere i tanti profughi in arrivo dall'Ucraina in Italia. Questa cosa ci è sembrata naturale, mettersi a disposizione. Visto che oggi abbiamo un appartamento dove i figli sono fuori, o per lavoro o per studio, abbiamo avuto la possibilità di accoglierli. La signora da mamma, che sentimento prova in questo momento? Ma è una gratitudine per aver accettato, questo sicuramente. Perché io penso che questi gesti che vengono da noi, come possono venire da altri, non possono essere altro che motivi di crescita per donne e uomini di pace. La guerra si combatte soprattutto con attività del genere, azioni del genere. Noi ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto e siamo grati a loro che hanno accettato di venire, perché comunque è una decisione difficile che hanno preso. E' la grande determinazione, la forza che hanno avuto di lasciare la loro casa, i loro genitori, sorelle, anche i mariti, pur di mettere a salvo i loro bambini che devono nascere. Noi siamo poi anche contenti che se questo evento avverrà da noi, ci rincuora ancora di più per aver aiutato queste ragazze. Ma la speranza è che finisca presto questo conflitto, ma purtroppo vediamo che ci sono minacce di allargamento. e secondo me dobbiamo manifestare contro la guerra in tutti i modi e dobbiamo condannare queste azioni che ci portano solo alla distruzione. E' impensabile che tra uomini che ragionano, che dovrebbero ragionare... Sperando Antonio che i bambini possano nascere in un tempo di pace, che possano tornare presto anche i loro mariti. Sì, certo, perché poi questo resterà il segno nella vita di chi è come loro, è nato al di fuori della propria nazione per necessità, per cose assurde.